Ambiente e sviluppo del lago Trasimeno. Pensate che è il quarto lago d'Italia. E ne parliamo con il sindaco di Castiglion del lago, Matteo Burico, presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno anche. Allora, presidente, il lago Trasimeno, l'ho detto, è il quarto lago d'Italia, è uno dei più bei laghi, ha dei tramonti meravigliosi, però c'è sempre da fare qualcosa per questo lago. Assolutamente, soprattutto in una stagione come questa, in anni come questi, in cui una crisi idrica mondiale in questo momento sta coinvolgendo anche il lago Trasimeno, che rimane per me il lago più bello del mondo. C'ha tre isole all'interno, una è più naturale, l'altra è l'isola maggiore dei pescatori, voglio dire l'isola minore che è ancora privata, quindi voglio dire è un mondo. Il lago Trasimeno è un posto straordinario e tra l'altro io dico sempre perché siamo in questa zona di confine, che è una zona di opportunità, è insomma un po' il lago anche dei Toscani, il lago è il lago degli Umbri, ma dei Toscani. Noi a Castiglione del Lago per esempio abbiamo una spiaggia che si chiama Lido Arezzo, non a caso. Non a caso, certo. Cosa si dovrebbe fare? Perché il turismo è importante, arrivano da tutto il mondo, ci sono gli andesi, ci sono gli americani, i tedeschi, perché il lago Trasimeno è vissuto proprio come turismo anche. Assolutamente e soprattutto sono molto orgoglioso che in questi anni, soprattutto le strutture turistiche, gli imprenditori hanno innalzato il livello dell'offerta e quindi dobbiamo dire che non c'è più un turismo mordi e fuggi, ma si viene al Trasimeno per il paesaggio, per la cultura, per l'enogastronomia e soprattutto si cerca la qualità. E questo è qualcosa... Per questo in genere, voglio dire, il turismo è cambiato molto. Assolutamente, siamo tornati a dei livelli importanti, abbiamo dei dati in cui durante una flessione, in flessioni importanti anche a livello regionale, il Trasimeno faceva 30% in più di presenze, un 6,7% in più di pernottamento e anche l'anno scorso, quando abbiamo visto in tutta Italia che c'è stata questa crisi importante del turismo, sembrava che l'anno scorso d'estate tutti fossero andati chissà dove, anche il Trasimeno abbiamo avuto un calo, ma poi c'è stato veramente un colpo di reni a settembre, ottobre, novembre e dicembre che questi dati quindi sono tornati in linea con l'anno precedente e quest'anno insomma ci aspettiamo un anno importante, soprattutto perché siamo stati in grado di allungare la stagione turistica. Parlo un attimo di Castiglione del Lago, perché noi abbiamo luci sul Trasimeno, l'abbiamo chiamata, l'albero sul lago Trasimeno di Castiglione del Lago non è di Castiglione del Lago, è di tutta la città del Trasimeno. Lei come Presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, voglio dire, è una parte del Trasimeno, Castiglione del Lago, però le iniziative sono tante. Le iniziative sono tante, le stiamo mettendo in rete, c'è un'ottima sinergia tra questi otto comuni che hanno deciso di prendersi per mano. L'Unione dei Comuni è un ente molto giovane, è un ente che ancora... E anche di sindaci giovani. Sì, io sono quello tra i più attempati. Però abbiamo questa necessità di stare insieme, perché abbiamo veramente scoperto che questa cooperazione, la chiamo io, questa cooperazione tra amministrazioni, tra piccole amministrazioni è la quarta città dell'Umbria. Il Trasimeno, questo lago, ci divide spesso, ma l'Unione dei Comuni ci unisce e soprattutto ci dà delle prospettive, che oggi è un ente giovane, ma nel futuro siamo convinti di poter avere risultati importanti. che andrebbero fatti, che però non si possono fare, perché c'è anche un'oasi all'interno del lago Trasimeno. Allora, ne approfitto soprattutto per parlare con i cittadini della città del Trasimeno, che soprattutto durante la stagione estiva, quando c'è qualche problema che si acutizza, vanno dal sindaco o dalla sindaca. Sì, perché il sindaco lo trovi tu in strada, perché sono paesi piccoli, piccoli relativi e spesso è difficile raccontare, spiegare. Nel Trasimeno insistono vincoli come la ZPS, il SIC, i siti Natura 2000, l'Habitat, che sono stati importantissimi, questo lo voglio premettere, importantissimi per la salvaguardia e la difesa di questo ambiente naturale straordinario. Perché poi ci sono ancora i pescatori all'interno del lago Trasimeno, che non è una tradizione e un valore da dimenticare. Allora, è un valore innanzitutto economico, perché le cooperative che insistono sul Trasimeno portano reddito a molte famiglie e soprattutto conservano la cultura e i valori della nostra comunità. Perché noi siamo abituati ai contadini, agli agricoltori, ma i pescatori sono gli agricoltori del mare, del lago, insomma. Non confondiamo, noi non siamo il mare dell'Umbria, noi siamo il lago più bello d'Italia. Con i tramonti più belli al mondo, questo l'ha detto la rivista Focus, non io. Comunque, la pesca e l'agricoltura, ma soprattutto l'agricoltura, è un pil fondamentale per la nostra, per la città del Trasimeno. Se voi pensate che i turisti, quando vengono al Trasimeno, trovano queste colline straordinarie che guardano la Toscana, che guardano Cortona, guardano Montepulciano, ma ovviamente anche Perugia, se quelle colline sono così, sono perché ci sono delle aziende agricole, degli agricoltori che fanno manutenzione e ci producono cibo di altissima qualità. Quindi dobbiamo dire grazie all'agricoltura per tanti motivi e soprattutto questo dovremmo iniziare a pensarci non a compartimenti stagni, pesca, agricoltura, commercio. Noi dobbiamo diventare una città accogliente che pensa al turismo non come qualcosa di succedaneo, ma qualcosa di importante che può diventare un pil importante, non un mordi e fuggi, ma l'agricoltura se pensa che manutenere una collina è turismo, fare un prodotto di qualità è turismo, beh, ci colleghiamo in rete e possiamo veramente diventare uno dei motori dell'Umbria. Motori dell'Umbria, ma anche il fatto stesso che è importante far capire che questi sono custodi di un territorio e da tutto il mondo, quando si parla, vengono in Italia per il cibo è, sì, ma il cibo viene prodotto in quei luoghi e quindi quei luoghi sono stati dipinti, sono stati proprio manualmente fatti dall'uomo, è lì la magia. Assolutamente. E guardate che puoi vedere un pescatore che ancora con le classiche barche piatte a fondo piatto vanno nelle varie orari e pescano anche per i turisti, perché poi c'è il turismo dentro il lago anche, no? perché, voglio dire, ci sono gli sport, è una cosa unica da vedere. È straordinaria e soprattutto tra l'altro da poco abbiamo annunciato che Slow Food ha riconosciuto la pesca del lago Trasimeno come presidio, quindi sono piccoli pezzi di una comunità che ha tanto da regalare, ma soprattutto deve essere consapevole delle difficoltà che ci sono. Ritorno su, se posso, velocemente, la manutenzione del lago Trasimeno, i sindaci non possono intervenire sulle sponde, l'Unione dei Comuni che ha la competenza senza i permessi ambientali, regionali, non può intervenire e soprattutto i fondi, i fondi sono eterodiretti, servirebbe al Trasimeno assolutamente, immediatamente il rifinanziamento del piano stralcio, un milione e mezzo all'anno servirebbero, oggi qualsiasi intervento diventa straordinario, questi servirebbero per l'ordinaria manutenzione e soprattutto un appello, dobbiamo fare una battaglia dal basso che nelle zone antropizzate i vincoli non possono essere gli stessi che nelle oasi, perché se no nell'Unione dei Comuni, nella Regione, nei sindaci possono intervenire per tagliare le cannine del lago davanti a una spiaggia, le alghe che rimangono spiaggiate e i turisti e i cittadini questo non possono capirlo, ma c'è il penale oggi, quindi dobbiamo capire che serve una vera presa di coscienza di quanto sia importante l'ambiente, questo voglio essere chiaro, ma di quanto l'interazione uomo-lago su questo lago c'è sempre stata e dobbiamo recuperarla. Assolutamente, perché devi andare ancora più avanti, anche perché poi il mondo sta cambiando e anche le persone stesse stanno cambiando, ma devono prendere una coscienza. Assolutamente. E allora abbiamo parlato del quarto lago d'Italia, il lago Trasimeno e lo abbiamo fatto con il sindaco Matteo Burrico, presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, appunto, la ringrazio. Grazie.